Salve a tutti, sono Michele Amadei del Grand Hotel Forlì, ristorante Tre Corti. Quest'anno festeggiamo dieci anni di partnership con la Società del Calcio Forlì. È nata dieci anni fa, subito dopo un anno abbiamo avuto la fortuna e il piacere di collaborare con tutta la Società del Forlì Calcio, con il Presidente Gianfranco Cappelli, dove è nata subito veramente un rispetto professionale e devo dire anche una bella amicizia. Quindi abbiamo proseguito fino ad oggi, oggi festeggiamo dieci anni di collaborazione e siamo sempre stati fianco a fianco per ovviamente promuovere sia la città e sia questa squadra di calcio che tra l'altro, devo dire, è molto vicina perché comunque in qualche modo sia io che i miei soci siamo legati a questa passione. Ringrazio, buongiorno a tutti, ringrazio Michele di nuovo per i dieci anni con cui ci sta accompagnando in questa avventura. Devo dire la verità, ci troviamo benissimo, abbiamo instaurato un rapporto anche d'amicizia, di collaborazione anche nel lavoro e quindi ulteriormente lo ringraziamo di starci vicino, di accompagnarci continuamente nel bene e nel male di quello che sono le vicissitudini del calcio e con questo spero che la nostra collaborazione sia sempre più proficua. Noi ci affidiamo al Grand Hotel, al suo ristorante, alle sue capacità in ogni momento, cerchiamo di avvicinargli anche le squadre che vengono in trasferta, quindi il luogo per poterli posizionare bene, per stare bene e per mangiare bene è sempre il Grand Hotel Forlì col ristorante Tre Corti. Ringraziamo Michele di questo e speriamo di una sempre più proficua collaborazione. Quest'anno speriamo di dargli soddisfazione anche sul campo e quindi lo speriamo tutti quanti. Vorrei complimentarmi col mister per quello che sta svolgendo, per il lavoro che sta facendo, per la squadra, per il gruppo che si sta creando e si è creato, con i ragazzi che vedo una diversità di mentalità, una diversità di recupero, una diversità di accenno anche nei momenti più difficili, quando la squadra magari subisse, vedo che c'è la capacità, c'è la reattività e quindi sono ulteriormente contento di quest'anno, di come siamo partiti. Volevo ricordare a tutti quanti, chi ci sta seguendo, che domani il forrigio che era al Morgagni. Quindi spero che, visto l'entusiasmo che si sta creando, spero che la gente, tutte le persone, ci vengano ad incitare e a portarci la loro vicinanza per farci sentire nel bene che la loro città in qualche modo emerge. L'ultima comunicazione è, noi assieme alla Nazionale FGC di Calcio Femminile abbiamo aperto una collaborazione, loro verranno a giocare due partite al Morgagni, ci sarà Italia-Francia e Italia-Svizzera, quindi la società si sta muovendo anche in questo senso, siamo contenti della vicinanza che ci ha portato anche questo tipo di rapporto con la Nazionale. Noi ci muoviamo, siamo a vostra disposizione per tutte le cose e portiamo avanti il nome di Forlì anche come città. La prima partita sarà venerdì 7 ottobre alle ore 15 Italia-Francia e poi lunedì 10 ottobre, sempre alle ore 15 Italia-Svizzera. Vorrei che portassimo un buon apporto a tutti i tifosi che venissero allo stadio anche per far vedere che Forlì è una città interessata al calcio e al gioco del pallone che prima ascoltavo proprio ci sono 3 miliardi e mezzo di tifosi nel mondo che seguono il calcio. Quindi al primo posto è il calcio, bisogna dirlo perché è così. Quindi al secondo posto c'era il cricket, io non lo sapevo quindi non pensavo. Però il calcio è ancora lo sport a livello mondiale che ha più seguito di tutti. Quindi grandi fornivesi domani allo stadio tutti quanti ad incitare la squadra. No, l'entusiasmo deve essere sempre alto. È normale che i risultati aumentano questo entusiasmo ma deve essere un entusiasmo positivo, un entusiasmo che non ti deve far perdere qual è il tuo obiettivo, non ti deve far perdere la concentrazione, non ti deve togliere soprattutto l'umiltà che abbiamo avuto fino adesso dal primo giorno di allenamento. Noi stiamo lavorando tanto per cercare di migliorarci sempre, partita dopo partita e possiamo ancora migliorare tanto e questo è il nostro obiettivo. La classifica è inutile guardarla alla quinta giornata, mi sembra un po' prematuro. Anche i ragazzi sanno che dobbiamo guardare una partita alla volta e giocarci tutte le partite proprio alla morte perché non c'è niente di scontato. È un campionato talmente particolare, talmente difficile che basta vedere i risultati delle prime cinque giornate che tutto può succedere. Quindi domani il nostro obiettivo è giocarci la partita come abbiamo fatto fino ad oggi con le nostre capacità. Ma da una parte sì, da una parte no perché il nostro obiettivo è la vittoria. Noi scendiamo in campo per cercare di vincere la partita però lo facciamo con una mentalità come hai detto te che non è che se è assillante che se non riusciamo a fare gol al primo minuto smettiamo di giocare o se subiamo ci perdiamo. La nostra squadra sarà che a parire dura 95 minuti e a prescindere dal risultato deve continuare a giocare per cercare il risultato finale pieno. Poi davanti abbiamo sempre gli avversari che sicuramente la pensano come noi, vorranno fare punti però ad oggi quello che mi piace sottolineare di questo forlino non è tanto la posizione di classifica ma è la continua crescita della squadra dei singoli giocatori di chi entra dalla panchina che secondo me è un contributo fondamentale nell'arco di una partita e questo è un segnale positivo da parte di una squadra di 25-26 giocatori. No, è normale che quando si fanno tanti punti soprattutto all'inizio parti bene, fai i punti c'è più serenità questa è una cosa anche nei ragazzi nelle giocate magari si rischia anche qualcosa in più perché sei in fiducia prendi convinzione questa è una cosa che non dobbiamo perdere e non dovremo mai perdere soprattutto quando sono 38 partite può arrivare anche il momento di difficoltà questa deve essere la nostra forza abbiamo visto anche nell'ultima partita era un passato in vantaggio sembrava una partita quasi a posto abbiamo subito gol subito dopo un minuto e quello ci poteva mettere in difficoltà invece se ne era ripreso siamo ripartiti come abbiamo sempre fatto fino adesso per cercare la vittoria ma con non quell'ansia da prestazione che dobbiamo vincere come fosse l'ultima di campionato che ci dobbiamo salvare o vincere qualcosa di importante ma è proprio una mentalità di una squadra che vuole cercare con equilibrio la vittoria hai detto bene una squadra che ha subito tanto però ha fatto anche tanti gol quindi hanno due facce saranno magari forse un po' più deboli in fase difensiva ma davanti bisogna stare attenti perché hanno tante alternative sia con giocatori piccoli e rapidi o con anche la punta centrale trombetta che è un attaccante di peso sempre pericoloso soprattutto sulle palle inattive dove noi dovremmo stare attenti l'avversario neopromosso no abbiamo visto che ad oggi sono tutte le partite che ti devi giocare perché non puoi pensare ad andare in campo giocando con una squadra neopromosso che ha subito tanti gol e la giornata è tutta in discesa no troviamo una squadra che vorrà a fare punti noi dovremmo abbassare assolutamente il nostro ritmo la nostra intensità e le nostre idee di gioco questa deve essere la base sapendo che può essere una partita che si può anche vincere o sbloccare all'ultimo minuto no Maini e Scalini ancora non sono disponibili è tornato disponibile Casadella e Dall'Infortunio e poi siamo quelli di mercoledì i giocatori disponibili sono quelli di mercoledì a parte Maini e Scalini quindi non ha nessun altro disponibile no e Piva che non è il solito Piva esatto ancora ne avrà per un po' esatto il mio pensiero è di essere domani domani devo schierare la formazione migliore perché la partita importante è quella di domani non quella di mercoledì e domenica prossima quindi ho anche la fortuna che ho scelte importanti perché ho giocatori che stanno con le disposizioni tutti bene tutti mi hanno dato le garanzie quindi sono convinto che chi sceglierò da mettere in campo al primo minuto farà la grande come chi entrerà dalla panchina farà benissimo ad oggi questo penso come ho detto alla squadra deve essere la nostra forza non gli 11 giocatori ma i 20 perché chi entra la panchina ci ha cambiato la partita più di una volta e ha le qualità per cambiarcela in caso non vada come vogliamo noi l'abbondanza non ce l'ho solo in attacco perché ce l'avevano anche a centrocampo sono giocatori che andranno in panchina e come in attacco io ho parlato soprattutto di 5 attaccanti perché per me come ho detto con loro sono 5 intolari c'è chi ad oggi ha giocato di più c'è come Gasperoni che purtroppo è quello magari che ha avuto meno minutaggio ma anche lui meriterebbe però non è facile giocare tutto e quanto però quello che voglio far capire loro e alla squadra che se si vuole essere una squadra forte bisogna essere in tanti giocatori forti e noi ad oggi soprattutto davanti abbiamo 5 giocatori che possono giocare chi parte all'inizio sa che deve dare tutto perché è uno dei primi cambi che faccio sono i più attaccanti perché sono giocatori che possono risolvere le partite possono cambiare le partite questo deve essere una forza loro mentale capire dell'importanza anche di quando non si gioca di stare all'interno di un gruppo di 20-25 giocatori ma sfruttare l'occasione che sia un minuto che sia 90 per la squadra Caprioni ha detto bene è stato uno dei migliori è un giocatore diverso dagli altri attaccanti perché è un giocatore con grandi qualità tecniche è un giocatore che ci fa giocare quando gli dai palla sai che raramente la perde sai che ti può sempre costruire qualcosa gli manca solo il gol questo è quello che gli manca ma manca soltanto un po' di precisione perché alla conclusione ci è arrivato è arrivato anche vicino a farlo gli manca solo questo un giocatore di esperienza è vero che è sempre stato abituato a fare tanti gol al momento è ancora a zero ma io lo vedo tranquillissimo lo vedo motivatissimo proprio per il discorso perché è uno dei giocatori più esperti intelligente si è calato benissimo nella parte di squadra quindi sa che al momento non fa gol lui ha fatto gol Tascini fa gol variale ma sa che è sempre importante prima o poi il gol lo farà centrerà la porta perché ci è andato veramente vicino in queste partite sarei più preoccupato se non arrivasse mai alla conclusione non avesse mai un'occasione a fare gol allora lì sei più preoccupato ma sa benissimo che prima o poi il gol lo farà no no assolutamente il rigore è una scelta dello spogliatoio della squadra sanno che è un momento particolare quindi sono tanti tiratori le provano sempre a allenare finitura sono 5-6 giocatori che le provano sanno che è il momento che chi se la sente in quel momento lì prende la palla batte il rigore senza nessun problema senza nessuna discussione infatti l'aveva calciato a Medeo Tascini l'ha conquistato se l'è sentita abbiamo visto tutti che non c'è stato assolutamente polemica e questo penso che sia un altro segnale forte grazie a voi grazie a voi ci vediamo domani nello stadio